Un nuovo appuntamento con la salute via e mangiando che tratta un tema di grande interesse proprio generale perché parliamo delle difese immunitarie. In questo periodo dell'anno è un tema che sta molto a cuore soprattutto anche alle mamme, per i bambini. Perché? Perché improvvisamente siamo aggrediti molto più facilmente da mal di gola, raffreddori, tutta una serie di disturbi influenzali perché si dice che le difese immunitarie cadono. Ma perché cadono le difese immunitarie in questo periodo dell'anno? Allora lo chiedo al nostro dottor Fausto Aufiero, che ricordo è un bioterapeuta nutrizionale, per sapere intanto perché in questo periodo dell'anno le difese immunitarie sono meno attive. Intanto è corretto parlare di calo delle difese immunitarie stagionale, distinguendolo dal calo delle difese immunitarie secondarie a patologie o a farmaci specifici che agiscono in questo senso. Quindi qui parliamo del perché durante l'inverno le cosiddette malattie da raffreddamento sono più frequenti. Beh, basta considerare che la vitalità e le difese immunitarie vanno di pari passo e che durante l'estate il sole e la luce e il calore ci mantengono delle difese più attive. All'inizio dell'inverno con l'umido dell'autunno e i primi freddi si ha un fisiologico calo che normalmente non verrebbe patito dagli esseri umani se non ci fossero anche delle concause, per esempio una relativa carenza di ferro, ecco perché spesso gli alimenti ricchi di ferro nel periodo autunnale possono aiutarci a sopportare meglio durante l'inverno. Ecco, vogliamo fare proprio il punto della situazione, quali sono gli aiuti concreti che ci possono venire dalla natura? La natura è sempre saggia, non per niente gli alimenti ricchi di vitamina C, che è l'altro nutriente fondamentale per le difese, l'arancia, le crementine, i mandarini, ci vengono dati nel periodo invernale, ma c'è un frutto che veramente è una meraviglia della natura, si chiama melagrana. Perché la melagrana è ricchissima di... La melagrana è ricchissima di ferro, di antiossidanti, stimola le difese immunitarie, aumenta i globuli rossi e le piastrine. Ecco, quindi diciamo che la vitamina C, eccetera, che poi forse un consiglio potrebbe essere sempre quello di abbinarla anche a un cibo ricco di ferro. È talmente vero che l'assorbimento del ferro si riduce se non c'è nello stesso pasto l'associazione con un alimento acido. Per esempio l'arancia, il limone, il pompelmo. Quindi quando mangiamo la carne, ad esempio che è ricca di ferro, carne bianca, carne rossa, con che cosa la dovremmo abbinare? L'ideale è abbinarla con una verdura ricca di ferro, in particolare quelle delle famiglie della cicoria. Ah, le cicorie. Il radicchio è una cicoria, le indivie belghe sono una cicoria come famiglia, sono ricche di ferro e hanno un'azione renale, cioè di aiuto all'organismo per gestire la carne. E io metterei a conclusione del pasto un'arancia, un kiwi, cioè frutti ricchi di vitamina C. Quindi diciamo il mondo delle combinazioni alimentari che è un altro mondo fondamentale per guadagnare in salute. C'è qualche altra cosa che vogliamo ricordare? Io vorrei solo ricordare ai telespettatori che un pasto è come un vestito, quindi richiede tutti i componenti necessari che interagiscono saggiamente fra di loro. Ecco perché i pasti squilibrati, solo carboidrati, solo proteine, non sono adatti alla fisiologia del nostro organismo. Quindi dobbiamo sempre abbinarli con poi delle verdure di tipo... Appropriate in base alla condizione dell'individuo al periodo stagionale. Adesso noi, io ringrazio il dottor Auffiero...